combinando questi tre fattori io vi garantisco che vi sentirete dei c***o di Rayman superdotati che effettivamente questa cosa può cambiarvi la vita quando lavorate o studiate voi dovete essere delle Ferrari ed essere focalizzati sul vostro lavoro o studio anche per diverse ore consecutive e ciò sottrae energia al vostro cervello e che se non siete abituati forse non sarete in grado di gestire questa enorme quantità di energia rimanere concentrati per studiare o svolgere un lavoro problema che tocca tutti noi quante volte vi sentivate dei treni inarrestabili e quante altre volte invece vi distraevate ogni tre minuti pensate sia una cosa casuale? no, non lo è c'è un motivo se quel giorno vi sentivate al top mentale e ovviamente c'è anche un motivo se spesso in testa non vi rimane nulla di quello che avete letto o studiato e scommetto che quest'ultimo caso si verifica molto più spesso di quell'altro se studiare bene in modo da ricordare facilmente ciò che avete letto o se svolgere bene e velocemente un lavoro, soprattutto mentale, è un vostro desiderio o obiettivo perché effettivamente questa cosa può cambiarvi la vita allora signori e signore vi consiglio vivamente di guardare questo video fino alla fine e vi assicuro che non ve ne pentirete mai più ma in cambio vi chiedo un semplice like e iscrizione al canale partiamo questo non è il solito video dove vengono spiegate le tecniche di concentrazione come la tecnica della mela, il palazzo della memoria, il c***o che vi si frega eccetera eccetera perché anche utilizzando quelle tecniche voi potreste essere deconcentrati o maldisposti è come se voi provaste a costruire una magnifica villa senza fondamenta o è come utilizzare la miglior benzina in commercio su un trattore invece che una Ferrari ed è proprio qui che sta il punto quando lavorate o studiate voi dovete essere delle Ferrari, non dei trattori dopo che avrete capito e sarete in grado di essere Ferrari potrete certamente aggiungere tutte le tecniche che volete e queste tecniche funzioneranno su di voi che siete al top mentale verranno piantati dei semi su un terreno iperfertile e concimato ma bando alle ciance vediamo subito quali sono i tre chiamiamoli metodi o status fisiologici per mettere il vostro fisico, per mettere voi in grado di essere concentrati al 100% ed essere focalizzati sul vostro lavoro o studio anche per diverse ore consecutive mantenendo alta la vostra brillantezza mentale la prima cosa necessaria per mettere il vostro fisico al 100% è il sonno banale quanto vero la media di sonno necessario per un essere umano si aggira tra le 7 e le 9 ore e voi dovreste essere in grado ormai di aver capito quanto ve ne serve per me ad esempio sono 8 ore e mezzo sul sonno ci sarebbe un video a parte da fare per quanti benefici apporti o danni in caso di carenza ma per ora vi basti sapere che numerosi studi scientifici hanno dimostrato che durante il sonno si memorizzano meglio le informazioni acquisite durante il giorno e si mette il cervello nelle migliori condizioni di acquisirne successivamente che un'ora e meno di sonno rispetto a quanto ce ne serva per 7 giorni consecutivi a livello di lucidità mentale equivale a non aver dormito per 24 ore consecutive non è un caso che con l'ora legale quando si dorme un'ora in meno aumentano di un 24% gli infarti e di un 19% il numero di incidenti stradali in auto 43% se parliamo di moto tuttavia non bastano le giuste ore di sonno serve anche un buon sonno per favorire ciò andate a letto a stomaco vuoto dopo una cena leggera non tenete la stanza troppo calda e non esponetevi alle luci artificiali prima di andare a dormire un'ora prima circa quindi conviene leggere un buon libro potrei continuare ma non serve il concetto è dormire il secondo fattore necessario per essere fisicamente al 100% è il cibo per essere al top della vostra cognizione mentale dovrete mangiare poco e possibilmente fare pasti senza carboidrati o ancora meglio essere completamente a digiuno la leggenda che gli zuccheri sono il cibo del cervello è una c***a colossale il colesterolo HDL, quello buono, è il cibo per i neuroni tant'è vero che la demenza, l'alzheimer e le malattie neurodegenerative in generale sono associate al consumo di carboidrati e non di grassi anche qui servirebbe un video a parte ma riassumendo i concetti dovete sapere questo molti carboidrati contengono glutine, una proteina tossica e ingerendola, anche se non siete intolleranti provocherete un'infiammazione dell'intestino che si propagerà per tutto il corpo un corpo infiammato lotta contro un ipotetico problema e ciò sottrae energie al vostro cervello inoltre starete più o meno male anche se apparentemente non ve ne accorgete ma anche se il carboidrato non contiene glutine la sua digestione stimolerà la produzione di insulina e quindi sensazione di stanchezza e favorirà inoltre la sintesi di serotonina e melanina quindi sensazione di sonnolenza se dovete mangiare quindi prediligete cibi proteici e grassi in quantità limitate e non vi preoccupate perché ingerendo grassi sia saturi che insaturi di origine naturale non ingrasserete vi faranno ingrassare i grassi idrogenati industriali ma questo è un altro discorso ma meglio ancora è rimanere a digiuno perché il corpo non dovrà spendere energie per la digestione o la stabilizzazione della glicemia e potete stare tranquilli che a digiuno non solo non vi mancheranno le energie ma ne avrete di più il digiuno ha il suo massimo beneficio tra le 16 e le 24 ore e l'unico effetto fastidioso è che durante il digiuno ad un certo punto vi arriverà una sensazione di fame molto potente ma superato questo momento la sensazione di fame sparisce se durante il digiuno o anche saltando semplicemente un pasto sentite un certo malessere soprattutto mal di testa sappiate che molto probabilmente siete dipendenti da zuccheri quindi alla luce di ciò non c'è niente di peggio che fare in continuazione dei mini spuntini mentre si studia o si lavora terzo e ultimo fattore necessario per essere al 100% delle vostre capacità mentali è fare attività fisica prima dello studio o del lavoro la migliore attività fisica per la concentrazione nel nostro caso è l'attività aerobica quindi corsa una corsa di 20-30 minuti o 3-5 chilometri in base al vostro grado di allenamento oltre a svuotarci la mente aumenta i nostri livelli di dopamina un neurotrasmettitore che aumenta la nostra attività cerebrale migliorando la concentrazione e la sensazione di felicità potremmo inoltre sfruttare la corsa quando ci prende quella sensazione di fame prepotente dovuta al digiuno quella di cui parlavo prima questo perché oltre a distrarci la corsa ci farà produrre leptina l'ormone che ci dà il senso di sazietà ok quindi combinando questi tre fattori io vi garantisco che vi sentirete dei c***o di Rayman super dotati di cervello eh e l'unica cosa su cui vi devo avvertire e non sto scherzando è che se non siete abituati forse non sarete in grado di gestire questa enorme quantità di energia ora detto ciò devo necessariamente avvisare che non sono un medico quindi prima di fare sport o diete di qualunque tipo consultate il vostro medico anche se 9 medici su 10 non capiscono un c***o né di sport né di alimentazione però hanno il camice aggiungo inoltre che questi non sono consigli personalizzati quindi non seguiteli alla lettera o come terapia o come altro in ogni caso da una parte ci sono io che senza conflitti di interessi vi dice determinate cose e dall'altra c'è chi vi prende per il c***o per ignoranza o per interesse spero che il video vi sia piaciuto ma soprattutto che vi sarà utile e per ringraziarmi vi chiedo solo di mettere un like e iscrivervi al canale e se qualcuno di voi ha già provato o proverà questa combo questa strategia sarei veramente felice di sapere come vi siete trovati scrivetemelo nei commenti al prossimo video grazie a tutti